Musica 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 questo è un po' di video 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 ho mangiato io già ho mangiato prima così dico sono libero e posso fare un po' di video questo è un po' di video questo è un po' di video questo è un po' di video buonissima buonissima è un po' di video buonissima 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 e la mia famiglia e la mia famiglia a tutti a tutti un saluto un bicchiere e qui ti piace questo ti piace questo ti piace questo questo qua è una ramigiana che noi viviamo è una ramigiana per i torresi di Toronto e di Montreal ti vedo il mondo un saluto un saluto alla casa tua tu un vino un vino anche per noi un vino non io non io e cerò un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto saluto io lo faccio dare provo 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 si prontissimo auguri Don Maurizio nostro mare sindaco e a tutti va bene va bene io ci do un benvenuto quando Maurizio è il nostro sindaco e il comitato abbiamo il comitato e i paesani i paesani qua siamo tutti quanti riuniti a centro Maria Santissima delle Grazie che è una bella giornata comunque siamo tanto orgogliosi di vedere quando Maurizio è il nostro sindaco bravo ok no vabbè che c'entri Angela oh oh abbiamo Angela pure New guest New guest New guest va bene va bene ho detto ok tanti auguroni allora io volevo fare i complimenti a tutti voi congratulazioni della bella associazione siete un esempio per tutte le altre associazioni lo possiamo dire? grazie 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 a tutti di essere venuti e un grazie particolare ai nostri torrezzi che sono qui con noi e alla Chiaravallese pure grazie 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 a tutti i miei che hanno aiutato questo bello festa e i miei eventi alle stagione grazie a tutti che sta trattando molti anni e spero che possiamo continuare questo per altri 100 anni. Grazie a tutti. Siamo pronti. Allora, la mia presenza qua intanto devo dire che è dovuta al 160 anniversario della ricostruzione del santuario di Torre di Ruggero. Poi di questo ne parlerà molto bene Don Maurizio. Io sono emozionatissimo in questo momento. Vedere i miei compaesani in un momento particolare e dopo diversi anni è la cosa più bella che uno può desiderare. Almeno io personalmente, altri non lo so come si sono comportati, ma io con voi mi sento già come dire, me la farei un pianto me lo farei, credetemi. però nel mio cuore nel mio cuore nel mio cuore c'è la gioia ho capito che purtroppo l'emigrazione degli anni 50, 60, 70 del dopoguerra in Italia ha costretto non solo Torre di Ruggero di emigrare, ma anche i paesi vicinori ma credo che anche un po' dappertutto da tutta l'Italia. E non è una cosa bella, però essere qui con voi, ricordare quei momenti tranquilli di serenità che con molti di loro amici di infanzia e quindi cosa dire grazie a tutti voi grazie per la vostra presenza spero che domenica sarà una meravigliosa festa della Madonna della Grazia dove lì andremo in fondo al discorso non è il momento giusto dove lì racconteremo i nostri bisogni e anche i vostri almeno per come la penso io intanto con il primo rientro che dobbiamo fare il prossimo anno Torre di Ruggero le radici non possono essere dimenticate né da voi né dai vostri figli perché quello è il momento più importante credo almeno per me della nostra vita diversamente vuol dire che abbiamo fallito e abbiamo fallito tutti vi chiedo scusa se lo dico però è importantissimo questo noi quello che possiamo fare in impegno come amministrazione quello che posso fare lo faccio per voi l'ho già fatto forse qualcuno lo ricorderà quando siete venuti molti anni fa per ecco quindi io e quindi io vorrei che quella cosa si ripetesse in un modo tale da stare assieme da ridere da divertirci perché la vita purtroppo non è non sappiamo quando finirà quindi in questo momento credo che il momento più bello e più significativo della nostra comunità di tutta la nostra comunità è quello che rientrate un po' tutti con i figli pure perché credo che non ci possiamo dimenticare nessuno delle nostre radici dove lì possiamo trascorrere delle belle giornate finché poi il nostro Padre Eterno ci chiamerà lassù dove grazie a tutti voi grazie 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 di cuore e ho finito a posto no 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 non hanno capito quello che ho in mente per domenica quindi questo è semplicemente una va bene io quello che voglio dire dico una splendida giornata per il nostro sindaco diciamo di Torre di Ruggero per Don Maurizio per tutta la compagnia un ringraziamento vero e proprio da cuore da parte da tutta l'associazione grazie ciao allora per omaggiare il club di l'associazione Maria Santissima delle Grazie di Torre di Ruggero come Calabria TV la web tv dei calabresi del mondo dato che ci avete accolti vi rilasciamo un attestato di merito la calabresità non conosce confini le tradizioni le radici e ben salde fanno di voi un punto di riferimento nel lontano Canada il mio più sincero apprezzamento per il lavoro che svolgete è il mantenimento della cultura questo è il mio grazie grazie un'associazione calabrese come quella di Torre di Ruggero che entra anche nell'associazione calabrese nel mondo dell'Ontario qui siamo tutti calabrese comunque dobbiamo dare credito a quella di Torre di Ruggero che lavora insieme se danno da fare io sono orgoglioso che mi hanno abbracciato tra di loro e le ringrazio perché quando vengo qui mi sento a casa mia d'altra parte che cosa voglio che ti dico noi altri calabresi sparsi nell'Ontario dovremmo lavorare più unite non guardare se vengo di Torre di Torre di Ruggero dove vengo dobbiamo fare una forza e farci ascoltare alla regione perché ci sono tante fonte che arrivano dalla regione tu sai a me la lingua batte dove il dente vuole io c'ho un dente che mi fa male purtroppo quindi governatore politici regionali state ad ascoltare le associazioni calabrese dell'Ontario state ad ascoltare un messaggio per il presidente caro presidente alla festa di Cavallaro c'erano duemila persone però queste duemila in Calabria si moltiplicano e quando arriva l'ora noi usiamo la moltiplicazione c'erano la cori di canna c'erano la cori di bombata ti volevo un tricale di bene ti ne voglio una pubblica aprisci stocche baccalà aprisci stocche baccalà ti ritupi dell'ario lì ti ritupi dell'ario là questa è la bella di lupabì questa è la bella di lupapà questa è la bella di lupabì questa è la bella di lupapà bella mattina di sud marzo presto hai a partire e dai orni che non vi una mia bella lì piccirina e dai orni che non vi io nella luna non li stili da cortone a caoloni a centosei alla statale guardo l'ucero guardo l'umare guardo in faccia lì me pensai guardo l'ucero guardo l'umare guardo dintra lì me pensai l'utrice luce la festa San Francesco in processione e la banda che suona suona arredo li porta li portù e la banda che suona suona arredo li porta li portù e la banda che suona suona arredo li portù e l'umare chi si è cazzato ha sdogato l'utente e l'umare chi si è cazzato ha sdogato l'utente più ariano e torri di canno sciala e torri di mamma dà di volevo tricale di benedì una voglia una pubblica ariano stocca e baccalà ariano stocca e baccalà di ricubi dell'ari lì di ricubi dell'ari lì qui si è stocca di stocca Papi, c'è la bella di lui papà Riaccinta la piazza, me la genti di culuri Le bronze sui quartieri, non sui medici e non dottori Le bronze sui quartieri, non sui medici e non dottori Accoglienza e beneficenza, non perdivo la speranza Di un delibero e un descansa, namastria e d'ignoranza Di un delibero e un descansa, namastria e d'ignoranza Tra lontella e la caolonia, c'è qui canta e c'è qui son Alla piazza e la patia, reto di la casa mia Alla piazza e la patia, reto di la casa mia Alla fine di la festa, c'è qui parte e c'è qui resta C'è qui porta l'allegria e c'è qui porta la tempesta Così porta l'allegria e così porta la tempesta Abbiamo una coli di camma, sciala, coli di mamma ta Ti volevo tre caldi, beviti, ma voglio una pubblica Ah, pisci, stocca e baccalà Ah, pisci, stocca e baccalà Direi topi dell'Arioliti, direi topi dell'Ariolà Questa è la bella di Rufabì, questa è la bella di Rufabà Questa è la bella di Rufabì, questa è la bella di Rufabà Questa è la bella di Rufabì, questa è la bella di Rufabà